Le elezioni amministrative a Palermo per appoggiare la candidatura a sindaco di Franco Miceli, anche il segretario del PSI Enzo Maraio. Ascoltiamolo. Un fronte largo per dare una nuova prospettiva alla città di Palermo, anche in vista del secondo tempo di una partita importante e decisiva per il futuro dell'isola, che sono le regionali. Miceli è a capo di una coalizione coesa, un campo largo e importante sul quale vogliamo lavorare e sul quale lavoreremo anche in vista delle sfide future per l'Italia. La sfida è sicuramente quella di investire sempre di più sulle periferie, sull'area urbana, quella di dare maggiori possibilità alle persone che sono in difficoltà, alle diseguaglianze, lavorare nei quartieri e fare di Palermo il vero motore centrale dello sviluppo di tutta la regione siciliana. In un momento nel quale, dobbiamo dirlo, la regione sta davvero facendo fatica a disegnare uno sviluppo, una visione strategica di sviluppo per la Sicilia e anche per Palermo.